Un'emissione speciale Un'emissione speciale E si parte dalla piazza di Tirano dopo un caffettino Dopo la caramella, dopo l'Alpelimbe Prima salita Ma che posto! Una volta come finiva questo ponte Quisada al Santa Perpetua Un po' di sole егgiare Lasihat Medi servit la posizione Un'emissima Un'emissima ma non è il pantino non è la pantino panino verso la piccola la piccola è una piccola la piccola è una piccola oh questa è bella, prime impressioni? mancano solo 28 chilometri e' per giù rosmarino di fiore ed ecco la cosa più potoccosa, possiamo andare avanti con il tour, mancano ancora 27 chilometri 27 800 di positivo con trada a curta alta località asino sempre su Quasiteglio, tutte le acque ed eccoci però oggi cos'è che c'è? il sole vediamo a Teglio com'è i zuccheri eccoci i bambu Natale qualcuno si pappa il panino ciao ho la tua besta, qualcuno mangia ho la tua besta non fanno il passato si il calvario bello ecco la nino negri adesso andiamo a vedere se ci offrono eccoci in piazza Chiuro eccoci a ponte il calvario ma lì si può ed ecco Tresivio il calvario la fanta casa calvario fanta casa e questo non dov'è no 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 non mi vado eh? non mi vado lì ha detto l'alzamento in un solo la fantagna Castelgrumello Sonderio quattro ore e mezza tirano Sonderio missione compiuta mareletta la macchinina chiudere porca vai 30 km e questo non è il calvo è